Silvio, Antonio Anselmi e Eleonora. Un applauso forte! Un buono assistente! Niente, voglio dire che stiamo parlando di tanta, ma tanta qualità, eh? E pensare che il 2000 tutto questo non c'era. Il 2000 a Ruo di Puglia. Non sapeva parlare nessuno, eh? Grazie! Un applauso forte! 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 La settimanaячa è una strayscia che abb Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.